Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori, oggi è mercoledì e oggi è il mercoledì delle ceneri, comincia la quaresima dopo i begordi del carnevale e noi cominciamo invece la rassegna stampa con il santo del giorno che immagino oggi sia dedicato appunto a questo evento, questa importante giornata per i cristiani, mercoledì delle ceneri ma oggi è anche santa scolastica, il sole è sorto alle 7 e un quarto, tramonterà alle 5 e mezzo di oggi pomeriggio, vediamo il tempo che prevede la protezione civile delle marche per la giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio, avremo un cielo inizialmente nuvoloso con addensamenti cumuliformi nel settore meridionale, vedete c'è questa perturbazione in particolare a sud della nostra regione con anche pioggia mista neve, il limite delle nevicate intorno ai mille metri, le temperature minime sono in aumento e le massime in diminuzione, per domani giovedì 11 febbraio il cielo si rasserena un po' anche se avremo ancora un po' di nuvole e per venerdì invece torna soprattutto a centro sud la perturbazione che porterà un po' di pioggia soprattutto nel pomeriggio, dei piovaschi o rovesci sparsi in estensione nelle zone interne, dalle zone interne verso la costa centrale della nostra regione. Correnti atlantiche porteranno instabilità nel fine settimana, queste correnti caratterizzeranno appunto il sabato e la domenica nei quali in questi giorni si vedrà il transito di un sistema nuvoloso associato a deboli precipitazioni. Allora ieri c'è stato il rogo del pupo, il pupo che ha chiuso il carnevale, il pupo però non aspetta delusione in piazza, il sindaco Seri e il patron Cecchini appiccano il fuoco con quasi mezz'ora prima del previsto, poi l'allarme invece dopo una notte di ricerche per una giovane di 18 anni che dopo il veglione che c'è stato al pesce azzurro sempre a Fano non è tornata a casa, la mamma e i genitori l'hanno cercata, le amiche e gli amici l'hanno cercata, lei era dal fidanzatino. Poi sopra invece con l'estrazione dei biglietti della lotteria cale il sipario sul carnevale dei record, di carnevale si parla anche sul Corriere Adriatico, Pinocchio brucia, arrivederci all'estate, Cecchini annuncia il ritorno di un bel carnevale tra cinque mesi, quindi in piena estate e già si lavora alla rinnovata edizione del 2017, il sindaco soddisfatto della partecipazione dei fanesi e dell'affluenza dei turisti, il giornale pubblica anche i biglietti vincenti della lotteria. Poi sempre sul carnevale c'è anche la pagina del messaggero, Fano si inchina al carnevale, la stoccata del sindaco, abbiamo voluto bruciare, ha detto un enorme Pinocchio perché da noi qui a Fano le bugie non si dicono. Ieri c'è stata la prima serata di Sanremo e chi lo ha seguito avrà visto la performance e la simpatia di Giuseppe Ottaviani di Sant'Ippolito, l'atleta di Sant'Ippolito che ha conquistato il festival e in chiusura ha cantato, ha accennato una canzone che a lui è rimasta particolarmente nel cuore, considerate che Giuseppe Ottaviani a maggio compierà 100 anni, quindi la canzone che gli ricordo in particolare di più Sanremo è Vecchio Scarpone di Gino Latilla, se non ricordo male. Insomma, quindi una bella performance, ha fatto davvero una bella figura, è stata una bella testimonianza soprattutto, speriamo di potervela sintetizzare e farla vedere anche noi stasera nel telegiornale. Poi la notizia curiosa, se vogliamo, da Fossombrone, anzi da Urbagna, i vigili che sono stati multati da se stessi, tra virgolette, verrebbe da dire, nel senso che sono stati multati da un autovelox, i vigili si fanno ricorso, il vicecomandante e il capitano ottengono l'annullamento dei verbali che li riguardano. In Italia non c'è chiarezza, un giorno è vera una cosa, il giorno dopo un'altra, ho ricorso contro una multa fattami dal mio autovelox, dice Carlo Brizio. L'altro dice invece, mi sento in contraddizione perché capisco che è difficile capire per la gente, ma l'ho fatto come protesta contro il vicecomandante. Insomma, questa è la storia che il giornale pubblica questa mattina. Poi, dopo lo rivedremo anche su un altro quotidiano, i romagnoli, i romagnoli insistono nel voler acquisire due paesi della nostra bella provincia, Sassofeltro e Monte Copiolo. La Commissione Bilancio dell'Emilia Romagna ha sollecitato la Giunta a fare nuove pressioni. Poi, le telecamere in centro, siamo a Cagli, inutilizzabili, le uniche installate in piazza hanno una risoluzione troppo bassa e dunque non si riesce a distinguere granché e quindi servono a poco. La città dei motori a Pesaro per il cartodromo Berloni, il comune ci prova con Rossi, esproprio dell'area e accordo con Graziano che è il papà del campione di motociclismo Valentino Rossi. Picchiato e rapinato mistero al Miralfiore, in coma un 66enne che si era visto con un giovane rom, era a terra sanguinante. Il boss emergente invece della Camorra con la sua famiglia era diretto a Pesaro, è giallo sulla destinazione, era l'attitante dal 2015, aveva con sé tre telefonini. Sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, prima legge speciale, poi città della musica, la direttiva firmata Fabre Zanda sarà discussa il primo di marzo, in ballo 3 milioni e 600 mila euro. Sulla Fano Grosseto entro il 2020 si realizzerà la senatrice Fabri, parla in direzione provinciale del PD e dice l'occasione è da non perdere, ma la cosa importante è che non si pagherà il pedaggio, niente pedaggio, apertura della galleria, raddoppio delle corsie e ammodernamento della viabilità. Abbiamo visto in apertura sulla pagina di Fano il Carnevale, sotto invece la fusione per le due Aset, non c'è altro futuro, il capogruppo del PD stoppa la proposta di un'aggregazione avanzata da Severi, soluzione superata, la riflessione è già durata anni. Il dialetto, il dialetto rivive a teatro, sulla scena del Politeama, le commedie di quattro compagnie, l'assessore Marchegiani sottolinea come il vernacolo segni l'identità di appartenenza, si comincia il 15, il 16 e poi il 22 di febbraio con una commedia del guitto che proporrà una commedia appunto dal titolo A un tir de schioppe. Poi l'altra pagina del Corriere Adriatico, da Trecastelli, Mondolfo, domenica c'è il Carnevale, a Ponterio in programma il Carnevale dei Trecastelli promosso da Rio Sciara, Pro Monterado e la Carnevalesca di Mondavio e da Senigallia anche qui un resoconto di quello che è stato il Carnevale con momenti di divertimento ma anche di eccessi. Diversi bambini in farmacia infatti sono andati per irritazioni agli occhi e immaginate un po' perché sono andati con gli occhi irritati perché hanno utilizzato la schiuma e se no sono spruzzate addosso. Poi sul messaggero invece di Pesaro il titolo d'apertura riguarda il piano spiaggia, il giorno della verità, attesa per l'incontro in comune, aperto ad operatori e residenti, le critiche di SEL, via il chiosco a Baia Flaminia, l'assessore De Regis lo vuole dice la sovrintendenza. A centro pagina la fotografia è per il basket VL delusione a Bologna e poi catturato, boss della Camorra andava a Pesaro con la famiglia. Il referendum non si può fare, atti di Natale per avviare l'iter della consultazione, i grillini devono trovare entro venerdì comuni interessati, il segretario del PD Comi dice sono atti che recepiscono norme nazionali, non possono essere sottoposti al voto. E poi via il chiosco lo vuole la sovrintendenza, abbiamo visto, e poi la denuncia invece degli ambientalisti nel parco di San Bartolo si spara, criticato il piano di gestione che prevede la caccia al cinghiale. Controlli invece sempre più mirati contro chi chiede l'elemosina in strada, contro quelli che fanno la questua. L'assessore alla sicurezza del Comune di Pesaro della Dora interviene dopo l'appello che è stato lanciato ieri da Confcommercio in via Cimarosa, i vigili urbani sono intervenuti per due romeni, per alcuni romeni che dormivano in due automobili. E qui c'è Romagna mia, la grande tentazione. L'Emilia Romagna infatti vuole Montecopiolo e Sassofeltro, in commissione è stata ricevuta una delegazione di secessionisti, insomma un pezzettino alla volta va a finire che davvero andiamo tutti in Romagna. Urbino invece ha deciso che ricorrerà al Tar per la mancata fusione con Tavoleto. Poi l'arcivescovo Coccia, l'arcivescovo di Pesaro, in visita ai malati perché domani è la Beata Vergine di Lourdes e quindi c'è come tutti gli anni la giornata del malato. Quest'anno è il giubileo del malato perché siamo nell'anno appunto della misericordia e in considerazione, qui ci sono tutti gli appuntamenti a cui parteciperà il vescovo Coccia, però credo che sia importante soprattutto per chi segue e per chi fa parte della diocese appunto di Pesaro che in considerazione del fatto che molti malati non possono essere presenti a queste celebrazioni, il giubileo sarà trasmesso in diretta da Radio Incontro dalle ore 17 in poi, quindi è un appuntamento che potrete seguire anche attraverso la radio e questo è un bel servizio. Poi non torna dopo la festa e siamo sulla pagina di Fano trovata con il finanziatino, ricerche della polizia dopo la denuncia dei genitori, ore d'ansia poi il lieto fine, vedete qui Seretti il dirigente del commissariato di Fano, 18enne partecipa lunedì sera al party studentesco in maschera ma non rientra e dunque scatta l'allarme, scattano le ricerche. Poi sono stati trovati i fondi per la Colle Marathon, un'altra grande iniziativa che ogni anno cresce sempre di più ma che come sempre, chiaramente come tutte le iniziative deve fare i conti con le casse e quindi con i finanziamenti, la notizia buona è che la regione salva questa importante manifestazione che comunque è confermata anche per il 2016 che finora era appunto in forza. La popolare maratona da Barchi a Fano si gemellerà con Chattanuga nel Tennessee. Sotto due notizie per chiudere la rassegna, il caso Aset fa discutere la politica, si dibatte sul progetto di fusione tra Aset Spa e Aset Holding ma anche sulla vicenda della Rincicotti Orciani e poi ci sono le elezioni perché quattro comuni andranno al voto per eleggere i consigli e i nuovi sindaci. Ci sono due località che si trovano in Val Cesano, cioè Mondolfo e Mondavio e poi due paesi in Val Metauro ovvero Orciano e Barchi. La rassegna stampa Occhio ai giornali è finita, noi ci rivediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.